Buongiorno a tutti, sono sempre Vittor Laslo88, prima di iniziare con il video di oggi vi voglio ricordare che vi ho trovato il link di affiliazione che vi rimanda alla home page di Disney Plus se volete fare la prova gratuita di una settimana potete farla usando questo link voi non spendete nulla e vi date un minimo di supporto, ovviamente non è una cosa obbligatoria già avevate intenzione di farla e vi ricordo anche che ho continuato finalmente il podcast in cui parlo di cinema, lo trovate linkato in descrizione e al momento è disponibile su Spotify e devo metterlo anche su Google Podcast, Apple Podcast, vi ricordo anche che ho trovato il link personalizzato che rimanda alla home page del sito di Pampling, dove trovate un sacco di magliette, felpi, scarpe, zaini e un sacco di altri prodotti a tema nerd, se volete averli con il 20% di sconto a fronte di un acquisto inferiore ai 50€ potete utilizzare il codice sconto VILASLO in fase di acquisto oppure se spendete più di 50€ potete utilizzare il codice sconto POWER25 per avere il 25% di sconto ma ora, bando alle ciance e iniziamo subito con il video di oggi allora, siamo giunti all'appuntamento con la classifica della settimana e come sapete io scelgo la tematica di ogni classifica basandomi sui commenti che avete scritto nella sezione commenti delle classifiche precedenti una di quelle che mi avete chiesto maggiormente riguarda i film di Quentin Tarantino e quindi ho deciso di accontentarvi perché le classifiche saranno sempre monografiche e riguarderanno o un determinato franchise, una determinata casa di produzione, un regista talvolta anche magari un attore però voglio mantenere questo tipo di struttura e sapete che Quentin Tarantino è uno dei miei registi preferiti non il preferito perché il mio preferito in assoluto è Sergio Leone e quindi potete capire come mai mi piaccia così tanto Quentin Tarantino al momento in cui lui si ispira fortemente a Leone ma non solo premetto innanzitutto che come al solito la classifica è molto personale e sicuramente molti di voi non saranno d'accordo non sono tantissimi i film di Tarantino ma il punto è che è difficile stabilire quale sia il peggiore infatti si parla di peggiore relativamente perché comunque tutti i suoi film hanno uno scarto non particolarmente ampio l'uno dagli altri dal momento che è un regista visionario che ha imposto nel corso degli anni una sua estetica e uno stile talmente personale che si parla addirittura di film alla Quentin Tarantino quando si trova qualcuno che sembra ispirarsi a questo regista perché di base lui crea film che solo lui effettivamente può fare in quel preciso modo quindi stiamo parlando di un vero mostro sacro che è migliorato tantissimo anno dopo anno film dopo film e quindi diciamo che mi rendo conto che non tutti potrete essere d'accordo con le varie posizioni e devo dire anche che i film di Quentin Tarantino sono nove ma in realtà ce n'è uno diviso in due parti e io li ho considerati due film differenti vi spiegherò poi il perché quindi questa sarà una top ten ok? ma c'è un motivo specifico se non siete d'accordo non è obbligatorio venire nella sezione commenti a insultare me la mia mamma, il mio papà, mia sorella e tutta la mia genealogia fino ai crisavoli potete tranquillamente dire non sono d'accordo perché e spiegate le persone che arrivano insultando così tanto per saranno immediatamente bloccate lo dico perché l'ho detto anche nel classifico precedente poi bloccavo e alcuni dei bloccati sono venuti su facebook in privato a dire sei uno stronzo non c'è accettare critiche lo ripeto se tu dici non sono d'accordo perché secondo me questo film è migliore di quest'altro hai sbagliato per quanto mi riguarda a considerare questo aspetto piuttosto che quest'altro quella è una critica dire pezzo di merda non capisci niente sei da solito a testa di cazzo è un insulto e non c'è niente nel mondo che potrà cambiare questa cosa quindi detto questo direi che possiamo cominciare con questa classifica che mi sta particolarmente a cuore naturalmente ci saranno spoiler come in ogni classifica quindi se sentite nominare un film che non avete mai visto e non volete sparare al riguardo saltate quella parte e passate al film successivo in posizione numero 10 quindi all'ultimo posto abbiamo Death Proof a prova di morte allora come ho detto è un peggiore relativo è solo perché di base è un film che era inserito in un progetto più ampio realizzato insieme a Robert Rodriguez era la volontà dei due registi di omaggiare le sale cosiddette Grindhouse quelle che ti permettevano di guardare al costo di un solo biglietto ben due film di fila che di solito erano dei b-movie non particolarmente meravigliosi ma per la maggior parte si tratta di film che sono stati rivalutati come cult in un secondo momento e il progetto è diventato famoso perché all'inizio della proiezione c'erano questi finti trailer realizzati da altri registi illustri come ad esempio quello di Don't di Edgar Wright quello di American Werewolf of SS di Rob Zombie oppure c'era un altro Thanksgiving di Eli Roth insomma c'era anche Macete dello stesso Rodriguez che poi è diventato un film che ha avuto anche un seguito tra l'altro che sono Macete e Macete Kills quindi stiamo parlando di un progetto molto particolare sia Prova di Morte che Planet Terror poi avevano all'interno un effetto che ne invecchiava le riprese come se fossero delle vecchie pellicole addirittura a un certo punto in Planet Terror si bruciava la pellicola e il film riprendeva da una scena che evidentemente era di parecchi minuti successiva a quella prima della bruciatura della pellicola e se quello di Rodriguez Planet Terror omaggiava gli zombie movie o comunque i film in cui c'erano infetti che mangiavano la carne delle proprie vittime quello di Tarantino a prova di morte si andava a inserire in un filone diverso quello alla Zozzameri Pazzogheri alla Punto Zero che vengono citati nel film quello in cui c'erano belle donne e auto veloci con corse mortali e per quanto io mi veda costretto a mettere a prova di morte che peraltro in Italia è uscito separatamente e non in maniera unitaria con Planet Terror all'ultimo posto io l'ho apprezzato devo dire che l'ho apprezzato il problema è che era stato decontestualizzato qui in Italia il film doveva per appunto essere accoppiato a Planet Terror e all'inizio della proiezione dovevano esserci i film di trailer non ci sono stati hanno separato due film li hanno mandati in sala peraltro in periodi diversi ed è logico che mancando tutto il contesto può non sembrare questo gran filmone ma in realtà è un Quentin Tarantino che si diverte tantissimo con il filone che va ad omaggiare e che mette anche alla berlina peraltro ha creato un personaggio straordinario come Stuntman Mike interpretato da Kurt Russell questo Stuntman ormai anziano è completamente fuori di testa che gira per il paese cercando giovani vittime femminili da uccidere con la sua auto veloce e super corazzata per cui diciamo che già la trama è molto particolare però è un film estremamente citazionista io personalmente l'ho adorato ci sono delle scene che sono anche dirette in maniera impeccabile e poi insomma abbiamo anche un cast di tutto rispetto al di fuori di Kurt Russell che teoricamente all'inizio diciamo non avrebbe dovuto partecipare al film ma il personaggio era stato pensato per Sylvester Stallone che poi rifiutò abbiamo anche ad esempio Rosario Dawson nella seconda parte del film poi abbiamo Rosemary Gowan che muore invece nella prima parte è Mary Elizabeth Winstead vestita da cheerleader c'è anche Zoe Bell amica del regista che è una stanza che troviamo in diversi suoi film insomma stiamo parlando di una pellicola che era più che altro un divertissement presa se non è magari niente di che però comunque è Tarantino all'ennesima potenza la citazione è forse ancora di più che nei suoi altri film al centro di tutto perché di base era proprio un progetto che voleva essere quanto più citazionista possibile quindi se già Tarantino nelle proprie opere è uno che inserisce citazioni come se non ci fossero domani qui ha aumentato questo ha diciamo allargato l'aspetto citazioni in una maniera veramente incredibile tra l'altro Tarantino è sempre stato al centro di un dibattito ovvero quando è che finisce di esserci la citazione inizia invece il plagio io credo che Tarantino non plagi perché sì è vero che in moltissimi dei suoi film inserisce delle citazioni smaccate ma il punto è che lui poi le rielabora quelle citazioni acquisiscono un senso completamente diverso nel proprio film e nel complesso il prodotto è qualcosa di molto personale che niente ha a che vedere di fatto con quello che è il film da cui ha ripreso alcuni aspetti ad esempio in Bastardi Senza Gloria il titolo Inglourious Bastards è una storpiatura di Inglourious Bastards ovvero quel maledetto treno blindato di Enzo Girolami Castellari ma poi il film non è che centri qualcosa quindi capite che il discorso secondo me è anche più complesso non si può ridurre le citazioni tarantiniane a plagio no perché il plagio è quando tu prendi una citazione cioè quando tu prendi un qualcosa un elemento di un film e lo riproponi così com'è senza ricontestualizzarlo senza metterci qualcosa di personale è proprio una copia carbone priva di rielaborazione Tarantino invece rielabora tutto quanto lo fa proprio per cui è qualcosa di totalmente diverso in A Prova di Morte troviamo moltissime citazioni ai citati Punto Zero Sozza Media di Pazzo Gheri ma il punto è che non sono le stesse identiche scene messe lì a caso o anche ad esempio Fast Pussycat Kill Kill la citazione a quel film di Ras Mayer le citazioni sono assolutamente evidenti però il punto è che Tarantino poi fa il suo film e se nella prima parte che il film è diviso in due mini episodi se nel primo mini episodio vediamo Stuntman Mike che riesce a uccidere le ragazze che adesca grazie a sua auto iper blindata facendo un frontale con loro e non lasciando neanche una nel secondo episodio invece abbiamo uno Stuntman Mike che viene preso a muso duro dalle donne che ha cercato di uccidere anche in quel caso e che lo devastano penso uccidendolo perché di base è abbastanza evidente che alla fine ci rimane secco per cui è un film che anche da un punto di vista musicale della colonna sonora contiene dei momenti che sono fantastici tra cui la lap dance di Butterfly che è un momento topico di quel film e quindi in sostanza va bene non sarà forse tra i migliori di Tarantino ma per me rimane relativamente peggiore perché bisogna anche contestualizzarlo nell'ambito del divertissement che era quello in cui Tarantino e Rodriguez stavano operando in quel modo e poi ricordiamoci che noi in Italia non lo abbiamo visto nel modo in cui aveva pensato specificamente il regista per cui già ci manca anche quel qualcosa in più che magari l'avevo potuto farlo apprezzare a chi invece non lo ha apprezzato io lo riguardo sempre molto volentieri e onestamente non riesco a non considerarlo un film quanto meno godibile certo lontano magari forse è l'unico che ha un distacco un po' maggiore rispetto agli altri ma ripeto è tutta una questione anche di inserimento in un contesto che a noi è mancato per la maggior parte al numero 9 abbiamo il film che probabilmente mi varrà moltissimi insulti dal momento che in tanti non sopporteranno di vederlo inserito in nona posizione ovvero Jackie Brown lo so che è un ottimo film infatti lungi da me dire il contrario è forse quello meno tarantiniano tra tutti quelli che ha diretto quindi va in ottava posizione un po' anche per questo motivo poi è l'unico che deriva da una storia che non è pensata da lui è tratto dal libro Punch a Room quindi è una riscrittura di un'opera preesistente che ha in sé molti elementi del noir ed è forse anche per questo motivo che è il meno tarantiniano innanzitutto perché la storia non l'ha pensata lui da zero e credo che sia anche perché il noir ha delle regole non si può eccedere nel noir e tarantino spesso e volentieri ama eccedere a modo proprio per cui qui è rimasto imbrigliato che se vuoi non è una cosa negativa anche se può sembrarlo perché il termine imbrigliare evoca qualcosa che ti ingabbia ma in realtà non si sta parlando di quello però è rimasto imbrigliato diciamo così in un meccanismo che era necessario seguire però comunque si vede che è un film di Quentin Tarantino ha dei momenti ad esempio il personaggio di lui interpretato da Robert De Niro è tarantiniano al massimo ha un che ad esempio che lo può comunare a Vincent Vega abbastanza dedito alle droghe un caratteraccio non particolarmente sveglio intelligente però comunque un personaggio leggermente diverso che era un po' un outsider all'interno di quel film perché gli altri sono personaggi strutturati in una maniera un po' diversa a partire da uno dei protagonisti che era Robert Forster che è scomparso poco tempo fa peraltro nello stesso giorno in cui è uscito El Camino lui ha interpretato anche quel personaggio che si occupava di far sparire le persone che desideravano cambiare vita quindi le faceva le ripuliva l'immagine prendeva nuovi documenti e quant'altro quindi anche quello un attore con una classe incredibile il personaggio non era così tarantiniano non lo era neanche secondo me la Jackie Brown del titolo interpretata da Pam Greer che avevamo sentito citata in Pulp Fiction tra l'altro ed è una delle attrici preferite dell'epoca di Quentin Tarantino attrice prettamente televisiva e diciamo che lui l'ha scelta proprio perché l'aveva sempre adorata ripeto per me un'attrice di talento molto brava ve la ricorderete probabilmente per Fuga da Los Angeles credo che un po' tutti se la ricordano principalmente per quel film e anche per Jackie Brown quindi sono questi due prodotti che sono arrivati anche da noi diciamo in Europa in cui è particolarmente spiccata poi sì sono arrivati altri film con lei altre serie ma diciamo che a livello di cultura pop forse è più ricordata per questi due prodotti in particolare e poi avevamo anche Bridget Fonda che era stata bravissima interpretava questo personaggio fastidiosissimo e lei era diciamo aveva delle connotazioni molto tipiche dei personaggi di Tarantino nei momenti in cui interagiva con Luis quando Luis a un certo punto le spara perché non è proprio di sentirla ecco il momento in cui lei fa Luis Luis lì è proprio capito lì rievoca altri personaggi già visti in precedenza in film di Tarantino e poi c'è Ordel Robby che è Samuel Jackson un grandissimo Samuel Jackson è di base una gangster story che però verte molto di più sul noir ce lo dicono le musiche ce lo dice la regia una regia molto più calibrata nel senso che è una regia meno frenetica a livello proprio anche psicologico perché la regia di Tarantino è molto particolare d'accordo lui utilizza delle inquadrature che non utilizzano altri registi utilizza delle ottiche particolari ha un montaggio particolarissimo che di base in questo film secondo me c'è fino a un certo punto forse l'unica scena che veramente mi ha evocato la solita regia tarantiniana è quella in cui Ordel deve uccidere uno dei suoi scagnozzi gli dice di di rimanere nel bagagliaio perché deve saltare fuori e sparare dei tizi con cui ha scazzato lo mette nel bagagliaio fa il giro dell'isolato quando si ferma cioè la macchina alla presa rimane ferma quindi vediamo una macchina che in quadrata in primo piano si allontana va proprio si sposta all'interno dell'inquadratura fino a essere a malapena visibile però l'audio rimane praticamente perfettamente udibile e vediamo Ordel che apre il bagagliaio si sente il tizio che urla fermi tutto e figli puttana e vediamo Ordel che gli spavano proprio il lampo di luce e capisci che era tutta una messa di scena per uccidere il tizio bellissimo quella è una scena che effettivamente mi ha rievocato molto la tipica regia tarantiniana però per il resto Jackie Brown è un film diverso dal solito e ripeto non che questo sia un male semplicemente a me personalmente piace di più il solito tarantino ma Jackie Brown è comunque un gran bel film ricordiamoci che questa è la classifica personale dei film di Quentin Tarantino dal peggiore al migliore quindi è mio gusto personale ok è solo per questo che è finito in ottava posizione il film è senza ombra di dubbio un ottimo film ma sinceramente ne ho preferiti altri però comunque stiamo parlando di una pellicola di tutto rispetto al numero 8 abbiamo Kill Bill volume 1 ecco Kill Bill volume 1 volume 2 sono un film unico e di base vengono contati come una sola pellicola e infatti Quentin Tarantino ormai sono anni che dice che lui vuole andarsene dalla scena col decimo film in teoria e lui considera per l'appunto Kill Bill un film unico perché l'ha girato a botta secca di base effettivamente sono usciti dieci film di Quentin Tarantino ma Kill Bill è stato spezzato in due parti ma è comunque una pellicola unica io ho deciso di non sottostare a quello che pensa il regista del suo stesso film e ho voluto suddividere le due parti di Kill Bill perché io per quanto sia conscio che si tratti dello stesso film le vedo come due prodotti si uniti ma anche perfettamente distinguibili l'uno dall'altro per cui lo so che può sembrare una cosa strana ma io ho preferito una parte rispetto all'altra e lo potete capire dal fatto che in ottava posizione ci sia il volume 1 perché perché Kill Bill volume 1 è un film secondo me straordinario e di base è quello che ha portato ancora di più Quentin Tarantino a essere conosciuto al grande pubblico perché la sposa interpretata da Uma Thurman è diventata assolutamente iconica con la sua tuta gialla con le strisce nere con le tiger ai piedi in quel periodo tutti mettevano i tiger tutti volevano quelle dannate tiger gialle con le strisce nere insomma senza alcuna ombra di dubbio è un film che poi contiene delle citazioni gli stessi colori di cui sto parlando sono una citazione alla famosa tuta di Bruce Lee non è che si è inventato nulla lo stesso film con la sposa la lista è una gigantesca citazione a un altro film dove la trama era abbastanza simile ma poi in realtà la direzione che veniva presa era completamente differente sì è vero Tarantino è uno che non nasconde neanche le proprie reference ed è proprio per questo che lo si ama perché poi mentre guardi il film scopri tutte le varie citazioni e pensi mio dio saper fare citazioni di questo tipo in quel modo non è assolutamente facile per cui io ho apprezzato questo Kill Bill volume 1 senza oma di dubbio soprattutto per l'estrema violenza che vi era all'interno perché era una violenza talmente esagerata talmente campanilistica da essere cartunesca in un certo senso e peraltro ci sono anche un paio di sequenze animate quella storia di Oreni scia animate qualcosa di fantastico veramente io ero rapito quando lo vedi la prima volta e però appunto è come se la morte non esistesse in questo film paradossalmente è così esagerata la presenza della morte da essere messa alla berlina e la morte viene meno anche se è presente per tutto il film perché non si prende sul serio vogliamo parlare della scena del massacro degli 88 folli è qualcosa di pazzesco Uma Thurman si è impegnata in maniera particolare per quel ruolo perché sapeva perfettamente che era un film che Tarantino aveva scritto per lei l'aveva scritto specificamente pensando a lei si vedeva che la sposa Beatrix Kiddo era chiaramente un personaggio cucito addosso a Uma Thurman e peraltro abbiamo un cast che mi fa alza le mani a parte Uma Thurman abbiamo Daryl Hannah che interpreta Elle che è uno dei miei personaggi preferiti del film perché è innanzitutto un personaggio assurdo che va in giro con questa benda che cambia ogni volta a seconda di come le gira benda sull'occhio perché l'occhio scopriamo poi che cos'è successo e perché non ce l'ha più e abbiamo anche Michael Madsen che è un attore che troviamo spesso nei film di Quentin Tarantino che interpreta Bud e anche quello è un personaggio interessante David Carradine o Carradine mai capito come si pronunciasse che interpreta per l'appunto Bill che di base non vediamo mai nel primo film e lo vediamo solo nella seconda parte c'è Vera Farmiga insomma è un film che ha un cast di un certo tipo ricordatevi Lucy Liu che interpretava o Remy Shee peraltro il finale con la battaglia tra loro due che è una citazione leoniana incredibile è qualcosa di straordinario perché comunque si è un film che si rifa tanto ai film degli anni 60 e 70 sulle arti marziali e varie vuxia o alle serie anche ricordiamoci che lo stesso Carradine era un personaggio che era comparso in molte serie e film di quel genere quindi non lo aveva scelto a caso e penso che abbia regalato la migliore performance di tutta quanta la sua carriera in Kill Bill soprattutto nel volume 2 perché è lì che compare maggiormente e volume 1 per l'appunto è un grande fumettone ma diretto con una certa maestria con queste inquadrature che sono fenomenali tutta la regia della battaglia della della del massacro di 88 foglie è fantastico perché a un certo punto ecco che arriva il bianco e nero per rendere la violenza un po' meno insopportabile e poi quando torna il colore ecco che vanno giù le luci e vediamo che a combattere sono solo le sagome come dimenticare gogo la giovane psicopatica che viene poi ammazzata da beatrix con una secchiodata data in testa per cui è tutta una scena quella che io ho trovato incredibile semplicemente incredibile ma proprio perché era un fumettone l'ho trovato un pochino meno profondo rispetto alla seconda parte e poi di quella parlerò però comunque è un film Kill Bill in generale che io ho adorato alla follia questa prima parte ha qualcosa che mi è piaciuto meno della seconda ma comunque è senza dubbio un ottimo film ma con il passare del tempo secondo me Quentin Tarantino ne ha sfornati addirittura di migliori e in posizione numero 7 abbiamo Le Iene che è il primo film di Quentin Tarantino posso dire che è una pellicola straordinaria Tarantino lo sapete è spesso accusato di misoginia proprio per film come Le Iene dove non ci sono donne ok non ci sono personaggi rilevanti interpretati da donne e secondo me dire che Tarantino è misogino significa non aver guardato neanche un suo film perché con film come A prova di morte oppure con film come The Eight Full Eight dove viene chiarito in maniera precisa quale sia il ragionamento che fa Tarantino sui personaggi femminili perché non vorrei dire ma in A prova di morte c'è un tizio con evidenti problemi di autostima che ha una macchina gigante per compensare chissà quali mancanza a livello di dimensioni che viene diciamo sfondato di botte a un certo punto da delle donne che riescono a fregarlo con la loro astuzia mi sembra un po' assurdo dire che sia misogino oppure basti pensare al discorso che viene sul personaggio di Jennifer Jason Lake da Kurt Russell in The Hateful Eight cioè come si fa a dire che Tarantino sia misogino lo spiega chiaramente che lui sta picchiando lei non in quanto donna dice ma perché dove è la donna quella sarebbe una donna quella è una canaglia io non sto picchiando una donna sto picchiando una canaglia lui non fa distinzioni tratta uomini e donne allo stesso modo nel caso in cui si tratti di canaglie le canaglie sono canaglie io non vedo una donna io vedo una canaglia quindi un discorso più paritario di quello direi che si poteva fare e però comunque gli vengono lo stesso gli sono state rotte le palle a ripetizione quando ha dimostrato di non essere minimamente misogino anzi i personaggi femminili hanno un rilievo incredibile nei suoi film Le Iene era un film che aveva voluto fare da un punto di vista solo ed esclusivamente maschile perché gli serviva per la storia e c'è una citazione enorme a rapina mano armata ma non solo è un film secondo me veramente geniale anche perché ha un gusto molto teatrale ha un cast incredibile torna ad esempio il già citato Madsen che interpreta per appunto Mr. Blonde protagonista della famosa scena della tortura del poliziotto sulla sedia con Stuck in the Middle with You che è un momento diciamo topico del film ma poi abbiamo Steve Buscemi c'è lo stesso Tarantino che è troppo da Mr. Brown abbiamo Tim Roth abbiamo Harvey Keitel quindi Tim Roth e Mr. Orange Harvey Keitel e Mr. White insomma questi rappenatori che si sono dati il nome in codice con dei colori e se vi ricordate finiva con lo stallo alla messicana tipico con tutti che iniziavano a sparare e praticamente si ammazzavano a vicenda nel giro di pochi secondi con Mr. White che difendeva fino allo stremo Mr. Orange che era accusato di essere un poliziotto e alla fine si scopre che effettivamente è un poliziotto quindi in sostanza è un circolo vizioso di violenza un cane che si morde sanguinosamente la coda e io è un film che apprezzo molto lo adoro non è tra i miei preferiti in assoluto di tantino però è un film che amo senza meno dubbio è entrato a far parte della cultura pop in maniera incredibile tra l'altro ragazzi io lo ripeto siamo d'accordo sul fatto che sia una classifica che alcuni film devono venire prima di altri però alla fine ce ne sono magari alcuni che ho apprezzato di più di Quentin Tarantino diretti da Quentin Tarantino però non vorrei che si venisse a capire che le Iene non mi fa impazzire no è proprio relativamentissimamente ce ne sono alcuni che mi sono piaciuti più delle Iene ma non è che mi piacciono così tanto in più rispetto alle Iene peraltro le Iene aveva secondo me ancora un po' una regia acerba rispetto a quella che avrebbe maturato Tarantino in un secondo momento è anche per questo che alcuni film sono un attimino più indietro perché poi mi si è evoluto tanto negli ultimi anni e secondo me lo ha saputo fare in una maniera ben precisa per cui le Iene è senza ombra di dubbio un film che si all'interno magari non ha alcune delle alcuni degli elementi più tipici di Quentin Tarantino li ha praticamente tutti però c'è magari qualcosa che avrebbe maturato dopo che alle Iene manca ma comunque è un film semplicemente geniale ragazzi è praticamente tutto ambientato in un solo luogo in questa sorta di magazzino semi abbandonato e comunque riesce a tenerti sulla corda per un'ora e mezza e tu per un'ora e mezza sei lì che cerchi di capire che cazzo stanno facendo questi e che cosa sta succedendo tutti che si tradiscono peraltro io ho sempre adorato la scena iniziale al tavolo quella panoramica circolare di loro che parlano e fanno il discorso sulla mancia insomma non so se vi ricordate questo è il violino più piccolo d'America e suona solo per baristi e camerieri quindi oppure la reinterpretazione del testo di Like a Virgin di Madonna non so se vi ricordate che secondo alcuni di loro in realtà la canzone parla di una donna che trova un tizio super dotato che le dà dolore come se come la prima volta come se fosse la prima volta che fa sesso tutto il giorno cazzo 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 e poi arriva questo questo ha un pene enorme lui ci scava le gallerie quella scena lì solo con il dialogo ti ti proprio ti entra nella testa e non te la scordi più è forse uno dei film più dialogati tra quelli diretti da Tarantino forse ancora più che in Pulp Fiction perché già Pulp Fiction aveva dei momenti in cui sì c'erano dialoghi ma aveva più importanza la messa in scena in sé e lì invece proprio il dialogo che è protagonista per cui Le Iene è sicuramente un film di Tarantino che io adoro e adorerò sempre al numero 6 abbiamo Once Upon a Time in Hollywood allora sì di base mi ha lasciato un impatto maggiore rispetto alle Iene lo so può sembrare assurdo e voi direte ma le Iene è un cult come cazzo ho fatto a lasciarti un impatto minore rispetto a Once Upon a Time in Hollywood che non è tra i migliori di Tarantino infatti non è in seconda o in prima posizione ma credo che sia proprio il motivo più sciocco di sempre quello che mi ha portato a mettere Once Upon a Time in Hollywood c'era una volta Hollywood più in alto a livello di gradimento rispetto alle Iene le Iene lo vidi in videocassetta molti molti anni fa e Once Upon a Time in Hollywood l'ho visto in sala l'impatto che mi ha lasciato è stato maggiore e poi c'è quello che vi dicevo prima è un Quentin Tarantino decisamente più maturo un Quentin Tarantino considerato anche in un altro modo da Hollywood un Quentin Tarantino che esprime tutta quanta la sua passione il suo amore per Hollywood per il cinema e ti racconta quella Hollywood che avrebbe voluto che fosse quella Hollywood che si ricordava ma che esisteva solo nella sua testa e rende non solo omaggio ma giustizia a quella Hollywood che ormai non c'è più e che mai più ritornerà e io ho adorato l'interpretazione di Quentin Tarantino quella di Brad Pitt l'ho amata alla follia tra l'altro io non vorrei dire ma Quentin Tarantino è l'uomo che fa vincere Oscar proprio a nastro a certi attori perché per vincere un Oscar ci voleva la regia di Tarantino a Brad Pitt cioè qui è stato bravissimo Cliff Booth quel personaggio è meraviglioso veramente e anche il personaggio di DiCaprio mi è piaciuto ma come ho già detto durante la recensione ho preferito di gran lunga l'interpretazione di Brad Pitt perché di base anche se il personaggio protagonista in realtà era DiCaprio è abbastanza evidente che il film è stato scritto in modo che il personaggio che avesse un impatto maggiore fosse quello di Brad Pitt sono stati bravi entrambi ottima coppia niente da dire però Brad Pitt mi ha un attimino più lasciato qualcosa poi è un film che ho adorato per tutta la questione della family di Manson che alla fine viene sterminata e Sharon Tate interpretata da Robin non muore cioè quello è l'aspetto più bello del film lui l'ha resa una fiaba questa pellicola infatti c'era una volta a Hollywood ha parlato di qualcosa che di base non è mai esistito davvero era la sua visione fiadesca di Hollywood che aveva quando era bambino no con non uccidendo Sharon Stone ha raccontato un qualcosa che di base non è mai esistito ma che gli sarebbe piaciuto vedere una Hollywood che avrebbe potuto continuare senza quel terribile evento che avrebbe sconvolto l'opinione pubblica insomma io l'ho trovato un film veramente bello nel senso che d'accordo non è il migliore mai fatto da Tarantino ma è comunque un film che mi rimarrà sempre nel cuore la scena con Lanciafiamme è qualcosa di incredibile ma poi le incredibili citazioni che ha inserito in questo film le citazioni agli spaghetti western agli spy movie all'italiana con tanto di locandine finte in cui ha inserito i personaggi di DiCaprio cioè ragazzi ma di che stiamo parlando ma poi tutta la parte al ranch della family di Manson con Cliff Booth che va lì insieme a Margaret Cawley poi incontrano il personaggio della Cotafani che è Squeaky incontrano l'ex produttore interpretato peraltro a Bruce Dern ormai cieco e adescato da Squeaky che fondamentalmente si concedeva a lui solo per avere per far sì che tutta la family potesse rimanere allo Spahn Ranch che era per appunto l'ex produttore Spahn George Spahn quindi non lo so a tanti di quei momenti che mi sono rimasti dentro con una regia talmente particolare peraltro un film ricordiamolo che è tarantiniano fino a un certo punto perché a livello superficiale sembra uno dei meno tarantiniani addirittura ancora meno tarantiniano rispetto a Jackie Brown poi però lo guardi e ti rendi conto che è tarantiniano in maniera enorme solo che non lo è al primo impatto cioè lo è nella messa in scena lo è nei dialoghi però il punto è che non è il film che tanti si sarebbero aspettati e forse è per questo che ne sono rimasto così tanto stupito perché quando l'ho visto ho detto porca troia non è quello che avrei pensato è forse per questo che mi è piaciuto così tanto quindi io non sono d'accordo con chi dice che è il meno tarantiniano sembra il meno tarantiniano ma in realtà poi è molto molto tarantiniano e lo si può vedere ad esempio dalla scena del lanciafiamme la scena alla fine con la famiglia di Manson la scena del ranch lì è tarantino lo stato puro a tanti momenti estremamente tarantiniani la scena del combattimento tra Bruce Lee e Cliff Booth cioè di cosa stiamo parlando quella scena è qualcosa di fantastico con Bruce Lee che fa un po' lo sgruffone che dice non posso combattere perché le mie mani sono registrate come armi se combattiamo e io ti ti dovessi uccidere accidentemente finisco in galera tutti finirebbero in galera si chiama omicidio volontario è una è una una scena che ha molto di Quentin Tarantino quindi francamente è un film che ho apprezzato e che ho notato essere stato svalutato da molti ma sono anche altrettanto convinto che tra qualche anno ne sentiremo parlare in maniera diversa e verrà rivalutato semplicemente Tarantino ha colpito ancora con un film che nessuno si aspettava lui è bravo in questo a stupirti e con questo film che è l'ultimo che ha diretto secondo me ha fatto veramente qualcosa di grandioso devo essere sincero al numero 5 abbiamo invece Pulp Fiction allora anche qui wow me lo aspettavo in top 3 no nel senso che Pulp Fiction è un cult assoluto è un film straordinario lo amo me lo guardo 50 volte all'anno ogni volta che lo guardo rido come un coglione è stato fondativo dall'in poi tutti i registi in erba si ispiravano al Tarantino il Pulp Fiction ma secondo me non è tra i migliori di Quentin Tarantino nel senso che era geniale era sicuramente un film ben fatto tutto quello che volete ma rispetto ad altri che arrivarono dopo lo vedo come un po' più acerbo per l'epoca era sicuramente un film avanti è un film senza il quale non avremmo avuto un certo tipo di filone o comunque certi guizzi da parte anche di registi successivi siamo d'accordo un altro che si è ispirato molto a quel Tarantino secondo me per le sue opere successive è stato Guy Ritchie va bene d'accordo ma non è il mio film preferito di Quentin Tarantino perché ancora era un Tarantino che si limitava cioè dava molto più risalto ai dialoghi e anche si era messa in scena per l'amor del cielo ma non aveva l'organicità che avrebbe avuto successivamente a un certo punto Tarantino ha iniziato a puntare un po' più in alto ha iniziato a pensare sceneggiature con un respiro maggiore con una morale di fondo ancora più forte creando in alcuni casi dei veri e propri colossal quindi senza nulla togliere Pulp Fiction che rimane un film della Madonna e come ho detto un cult incredibile diciamo che ha qualcosa in meno rispetto ad altri poi per l'amor del cielo come si fa a non amare la coppia John Travolta Samuel Jackson Vincent e Lucius sono due personaggi fantastici è un film che si può citare dal primo all'ultimo minuto la parte in cui parlano del massaggio ai piedi quando parlano per l'appunto in macchina e parte il colpo e viene ammazzato il tizio di colore che era in macchina con loro devono andare da da Jimmy che è per l'appunto Quentin Tarantino che dà le lenzuola buone di sua moglie Bonnie e arriva Mr. Wolf che è Harvey Keitel per risolvere i problemi insomma è un film che si può citare in lungo e largo è un film che ha rilanciato la carriera di John Travolta che ha rilanciato ancora di più Bruce Willis e Tarantino è uno che sa fare questo rilancia le carriere lo ha fatto molto spesso nel corso della sua carriera nel corso della sua attività però per l'appunto è un film che ha dei momenti che sono fantastici poi c'è anche il grande Ving Rhames che interpreta Marcellus Wallace e poi avremmo visto in tutti Mission Impossible ok con quel con quel cappellino la sua aria sempre un po' stonata da da ex pugile io è un attore che adoro e che non abbiamo visto abbastanza spesso quanto si sarebbe meritato però comunque tutti ce lo ricordiamo anche come Marcellus Wallace niente da dire su questo quindi da quel punto di vista è un film che ha dei momenti che sono pazzeschi la scena con Christopher Walken che va dal piccolo bada dal piccolo butch con l'orologio del padre spiegando che se l'era tenuto nel sedere era morto poi insomma devo dire che è un film imprescindibile è un grandissimo cult quindi sembrava scontato il doverlo mettere nelle prime posizioni però ho preferito metterlo a metà classifica proprio perchè per una volta ho voluto valutarlo in una maniera secondo me diversa rispetto a quello che è stato fatto in passato da altre persone che va benissimo alla fine su classifici personali ho voluto dare la precedenza a certi film in cui Tarantino ha capito magari di voler puntare su altro quindi io non dirò mai che Pulp Fiction non sia un bel film anzi cioè io ci sono cresciuto con Pulp Fiction però proseguendo con questa classifica capirete che cosa intendo e se dovessi dire che qual è la mia scena di Pulp Fiction preferita dovrei probabilmente arrossire perchè non ve la so dire sono tutte le mie scene preferite io quel film lo amo lo amo assolutamente solo che a livello di impatto c'è stato qualcos'altro di Tarantino che mi ha lasciato un segno molto più profondo in posizione numero 4 abbiamo ad esempio Kill Bill volume 2 è per questo che l'ho separato in due parti perchè quando io ho visto il volume 1 e Kill Bill ho provato delle sensazioni quando ho visto il volume 2 ne ho provato delle altre per quanto il primo mi fosse piaciuto da morire il secondo per me era qualcosa di completamente diverso un film molto meno action con molti più momenti profondi un David Carradine che definire straordinario sarebbe veramente un eufemismo e tutta la parte con lui alla fine che fa il suo monologo su Superman fa un monologo sul bene e il male in cui spiega per l'appunto perchè le ha fatto quello che ha fatto perchè ha di base cercato di uccidere Beatrix perchè lei era scappata era scappata con sua figlia aveva preso qualcosa che era suo quindi lui con quel monologo vuole dimostrare che non è stata cattiveria semplicemente lei gli ha fatto un torto e lui ha dovuto difendersi in un certo senso e anche il fatto che alla fine lei lo uccida con la tecnica dell'esplosione del cuore in cinque passi cioè quella vendetta finale che si consuma con lei in bagno che ride perchè per l'appunto Bill le ha dato quell'anestetico che come effetto collaterale aveva una leggera euforia e lui che dice grazie perchè per l'appunto sapeva che sarebbe stata male dopo averla ucciso dopo averlo dopo averlo ucciso quindi diciamo che è come se l'avesse fatto un favore in un certo senso devo dire che è un film che mi ha veramente lasciato stupito allibito la regia di questo Kid Bill è qualcosa di stratosferico anche perchè in tutto il film credo che ci sia una delle scene più belle che è quella di lei sepolta viva da Bud perchè Bud dice per l'appunto dopo quello che l'abbiamo fatto ci meritiamo tutti di morire ma naturalmente la dobbiamo fermare cioè lui dice si è vero noi l'abbiamo uccisa e al giorno del suo matrimonio e noi meritiamo tutti di morire però comunque vaffanculo io non voglio morire per cui se la becco la fermo ovvio la distruggo quindi c'è questo dimidiamento in Bud Bud che peraltro si è diciamo un po' pentito di quella vita precedente di cui conserva solo la spada di Attore Anzo che gli ha regalato il fratello Bill perchè Bud è il fratello di Bill ma la messa nel cesto delle mazzera golf perchè non voleva far vedere di averla gestita di averla conservata gelosamente e infatti alla fine Elle viene sconfitta da Beatrix proprio perchè Beatrix scopre quella spada che Elle non pensava che Bud avesse proprio in quel posto perchè era andata a ritirare la spada di Beatrix che era una spada proprio di Attore Anzo ecco la scena di La Sepolta Viva con la con la come posso dire con il flashback di dell'allenamento con Painei a me dà un'emozione incredibile ogni volta l'allenamento che fa Beatrix con Painei è una sequenza che io ho sempre amato alla foglia sia per la regia il modo in cui sono gestiti i combattimenti da un punto di vista registrico sia proprio per come è pensata concettualmente con Painei che mano a mano che lei fa progressi inizia a volerle bene e a considerarla la sua allieva più promettente di fatto è quello che diventa perché è l'unica a cui insegna la tecnica l'esplosione del cuore in cinque pali in cinque colpi era in cinque colpi se non sbaglio in cinque colpi che che fondamentalmente era la tecnica che non aveva insegnato nemmeno a Bill stesso che era stato uno dei suoi allievi quindi è un film che ha dei momenti che mi hanno sempre lasciato assolutamente allibito cioè era un altro Tarantino era un Tarantino diverso da Pulp Fiction diverso dalle Iene non che a me la prima parte di Kill Bill non sia piaciuta ma secondo me è tutta un'altra storia la seconda cioè per questo che io considero due film diversi perché ha proprio un modo di fare nella regia che cambia da un film all'altro e a me è piaciuto infinitamente di più il volume 2 rispetto al volume 1 in posizione numero 3 abbiamo Bastardi senza Gloria allora ragazzi quando uscì quel film io pensai ma che cazzo è successo cioè era sempre un film di Tarantino ma era veramente un film colossale durava tre ore era magniloquente i personaggi erano scritti ai limiti della perfezione e ce ne erano tantissimi sorvolando su Hans Landa che è un personaggio pazzesco e infatti valse la vittoria del primo Oscar di di Christoph Waltz perché era un personaggio pazzesco l'introduzione il prologo il prologo con lui che che per l'appunto spara la famiglia di Shoshanna e lei che scape e lui che urla Shoshanna cioè quella scena è diventata un'icona un cult assoluto la scena con Shoshanna che per l'appunto si vendica dei nazisti bruciando il cinema in cui c'è una proiezione di un film creato appositamente per il Führer e in quel cinema poi muore Hitler ricordiamoci perché arrivano i bastardi che sono questo corpo speciale di cacciatori dei nazisti che fanno saltare il cinema quindi Tarantino cambia la storia se questa cosa non l'aveva stupito particolarmente in One Soprima in Hollywood è solo perché l'aveva già fatto però appunto in Bastardi senza gloria quando tu ti accorgi che in quel cinema muore Hitler tu pensi ma che cazzo sto guardando non è un film storico è un film di Tarantino in cui lui rimmagina la storia e quindi quando lo vedemmo rimanemmo tutti assolutamente allibiti stupiti senza contare la grande incredibile regia di quel film già solo all'inizio con questi piani sequenza lunghissimi con la macchina da presa che si muoveva perennemente anche se in maniera molto lenta ci sono tanti tantissimi momenti di quel film che io amo come ad esempio la scena della cantina la scena in cui in cui per l'appunto il personaggio della Kruger viene dall'attrice Anna von Hammersmark viene strangolata a sorpresa da Hans Landa il finale con Aldo Rain che è interpretato da Brad Pitt che fa la svastica incide la svastica in fronte a Hans Landa che pensava di cavarsela scappando passando dall'altra parte tradendo quella scena lì è qualcosa di pazzesco perché te la potevi aspettare però è realizzata veramente bene insomma ha tanti momenti che me lo hanno fatto diventare uno dei miei film preferiti in assoluto di Trantino secondo me il vero salto di qualità come se ne avesse bisogno tra l'altro perché già i film precedenti erano bellissimi ma il vero salto proprio anche a livello di come sarebbe stato poi considerato dalla critica dal pubblico da quel momento in poi è stato proprio Bastardi Senza Gloria un film monumentale coraggiosissimo con un cast incredibile ricordiamo che c'era anche Eli Roth la scena poi in cui liberano Hugo Stiglitz che è ripresa completamente dal momento in cui liberano nell'Indio per qualche dollaro in più ad esempio insomma un film citazionista come non mai e lì poi anche il concetto di citazione sarebbe cambiato sarebbe diventata una citazione ancora più raffinata un modo di citare molto più amalgamato con la storia e la messi in scena insomma dal mio modesto punto di vista aveva fatto un passo enorme in avanti con questo Bastardi senza gloria ma avrebbe continuato a farne anche successivamente in posizione numero 2 abbiamo Django Unchained allora qui il discorso è molto semplice io amo il genere western in particolar modo amo gli spaghetti western credo sia il più grande atto d'amore che un regista abbia mai deciso di presentare nei confronti di Sergio Leone e non solo le citazioni che ci sono in Django Unchained sono incredibili sono tantissime addirittura abbiamo il cammino di Franco Nero che chiede a Django interpretato da Jamie Fox come si chiama e dice Django e allora Nero chiede sai come si scrive DJ NGO la die muta e Franco Nero risponde lo so perché lui era il primo vero Django nel film di Corbucci per cui stiamo parlando di un film che è sì citazionista ma non solo nei confronti del western e degli spaghetti western ad esempio la scena di apertura è Spartacus di Kubrick e c'è poco da fare è Spartacus di Kubrick e tu in un film che si pone con la citazione degli spaghetti western e del western in generale hai in apertura la scena di un film colossal come Spartacus che però non è una copia di quella scena e basta è una rielaborazione di quella scena che ti mostra efficacemente che nel film si parlerà di schiavitù e di fatto Tarantino con quel film ha voluto parlare di razzismo e lo ha fatto in un modo che nessuno si aspettava perché di base si parla di razzismo in una maniera viscerale profonda molto profonda tutta la parte è agghiacciante quando c'è uno di quei combattenti cosiddetti mandinghi d'Artagnan che ha cercato di scappare e Candy interpretato da DiCaprio lo fa sbranare dai cani e quella scena è di una violenza anche psicologica incredibile e scuote dal profondo il povero King Schultz che è interpretato ancora una volta Christoph Waltz che ancora una volta vincerà poi il premio Oscar di un attore non protagonista come era stato per bastare senza gloria quando aveva interpretato Hans Landa e tutta quella tutta quella parte è secondo me resa veramente bene perché tra l'altro c'è stata la polemica di Speck Lee che si era incacchiato con Tarantino perché nel suo film veniva detta troppe volte la parola con la N ma io vorrei far vorrei ricordare che non è che la parola con la N veniva detta così spesso perché c'era l'intento di insultare le persone di colore veniva detta perché a pronunciarla erano razzisti della fine dell'ottocento quindi si parlava di un periodo in cui purtroppo c'era ancora la schiavitù era tutto contestualizzato direi che il film è tutt'altro che razzista anzi è un film che manda un messaggio antirazzista splendido a mio modesto avviso ma hanno un messaggio antirazzista splendido e lì si è segnato secondo me un altro innalzamento della sticella per quanto riguarda le tematiche che iniziavano a diventare molto profonde e importanti a passare senza che non in poi c'era stata proprio un'inversione di tendenza le tematiche hanno diventato ancora più importanti più ancora delle delle citazioni dei dialoghi brillanti i cosiddetti dialoghi alla Tarantino che solo Tarantino riesce a realizzare e si iniziavano a lanciare dei messaggi senza che il tutto sembrasse però di da scalico e Jungle Unchained a mio modesto avviso è una pellicola lasciando il fatto che abbiamo penso una delle migliori interpretazioni di Jamie Fox ma forse una delle migliori interpretazioni di di Samuel Jackson che interpreta Steven che è questo uomo di colore che è da così tanto tempo al servizio della famiglia di di Calvin Candy che di base è diventato uno di loro è diventato un uomo di colore razzista nei confronti delle persone di colore è un po' come lo zio Racus di The Boondocks per intenderci e ad esempio quando alla fine Django massacra tutti quelli che entrano nella casa e dice tutte le persone di colore se ne vadano da Candyland e c'è Steven anche se ne sta andando lui punto la pistola e dice no Steven tu rimani qui tu stai bene dove stai perché lui ti fa capire che a un certo punto non è più neanche una questione di bianco o nero è una questione proprio di morale di fondo Steven si meritava di pagare come tutti gli schiavisti bianchi che avevano fatto del male alle persone di colore perché si era comportato nello stesso identico modo quindi non è una questione di sei di colore non sei di colore è una questione di come ti comporti di cosa pensi di come ti sei approcciato di quello che hai fatto fino a quel momento quindi già quello è un modo di trattare la questione molto particolare e poi abbiamo quella che secondo me è stata una delle più belle interpretazioni di Caprio di sempre per cui avrebbe meritato quantomeno la candidatura senza nulla togliere a Christoph Waltz che però secondo me non è stato bravo quanto di Caprio che peraltro interpretava per la prima volta un cattivo puro e io ho adorato perché ho adorato la performance di Samuel Jackson perché innanzitutto il modo in cui si rapporta con il personaggio di Caprio è fantastico c'è un rapporto quasi morboso ma poi Steven è un personaggio che fa incazzare ok è fastidioso sembra scemo ma quando rivela a Calvin che sono nello studio rivela a Calvin di aver scoperto che King Schultz e Django lo stanno fregando perché in realtà vogliono portarsi portare con sé liberare Brunhilda che è per l'appunto interpretata da Kerry Washington la moglie di Django lui dice io non lo so perché vogliono per forza Brunhilda si conoscono forse sua moglie che cazzo ne so però io so che loro non sono venuti a comprare un Mandingo sono venuti a comprare chi volevano comprare e dice e poi guarda Candy e dice grazie Steven prego Calvin e lì capisci che in realtà fa lo scemo per non andare in guerra non è cretino come sembra è dannatamente astuto e il cambio di carattere di modo di fare improvviso tra una scena e l'altra l'ho trovato spettacolare come anche la scena con Calvin che impazzisce per l'altro in quella scena quando Calvin mette in scacco Django e King Schultz in quella scena lui si taglia per davvero quando si taglia col bicchiere non era previsto però Tarantino ha capito che DiCaprio voleva andare avanti a riprendere però lo vedi che DiCaprio c'è un momento in cui pallidisce infatti quando passa la mano sporca di sangue sulla faccia Kerry Washington la faccia di lei dice tutto perché lei si accorge che quello non è sangue di scena ma è sangue umano vero quindi è un film che anche dal punto di vista musicale delle varie citazioni che ci sono e della musica splendida di Elisa diretta Regno Moricone è qualcosa di incredibile secondo me è un film davvero davvero maturo peraltro a un certo punto c'è il personaggio interpretato da Tarantino stesso che esplode come a dire che a un certo punto lui stesso si mette in dubbio cioè ha annientato ciò che credeva di sapere di se stesso portando la sua cinematografia ad un livello successivo ancora più di quanto aveva fatto con Bastardi Senza Gloria perché teoricamente lui aveva iniziato con Bastardi Senza Gloria una trilogia ideale ambientata nel passato che in realtà è diventato un po' più di quello perché da Bastardi Senza Gloria fino a Once Upon the Time in Hollywood abbiamo quattro film ambientati nel passato e Django Unchained è fondamentalmente il penultimo che aveva diretto prima cioè è il terzultimo che aveva diretto perché da Django a Once Upon the Time in Hollywood ci sono però appunto c'è un altro film in mezzo e quindi signore e signori direi che possiamo passare alla prossima posizione in posizione numero uno quindi il mio film di Tarantino preferito in assoluto è andando per esclusione The Eightful Eight e come posso non amare questo film cioè prestate attenzione perché io amo questa pellicola perché è il lavoro più monumentale per davvero di Quentin Tarantino un western che di base non è un western ma è più simile a una storia con il delitto a porte chiuse quello che di fatto è una sorta di remake senza alieni della cosa perché quello è cioè è quello un tot di persone che non si fidano le une delle altre in questo spazio ristretto immerso nella neve con qualcuno che vuole uccidere gli altri cioè di fatto anche per il fatto che le musiche sono in realtà le musiche scartate che aveva pensato Morricone per la cosa musiche per cui ha vinto gli oscuno potrebbe dire ma non devono essere musiche inedite infatti erano state scartate e non erano le stesse musiche che non erano mai state utilizzate pubblicate quindi ha potuto utilizzarle Tarantino le ha valorizzate porco il cazzo ed è venuto fuori un film straordinario con un set di personaggi meraviglioso ed è una storia umana raggelante tutta la questione della banda di Jodie Domingue che peraltro è Channing Tatum con Daisy Domergue che è questa prigioniera che viene malmenata da questo cacciatore d'Italia di fatto che è Kurt Russell abbiamo un Samuel Jackson cazzuto come non mai un Bruce Dern che mi è piaciuto da morire che peraltro un film con una struttura narrativa completamente scardinata si arriva a un certo punto in cui il film fa un passo indietro va tutto in flashback per poi spiegarti che cosa è successo fino a quel momento e tornare al presente e Tarantino ha mantenuto a pieno le redini di questa storia che secondo me è la più bella che abbia mai scritto è un film maturissimo sotto ogni punto di vista dal punto di vista registico cioè se vi era piaciuta se vi era piaciuta la regia di Pulp Fiction la regia di Kill Bill la regia di Bastardi senza Gloria che era già secondo me a un livello superiore qui proprio abbiamo una padronanza totale completa della regia dei movimenti di macchina è monumentale anche se di base è un film ambientato tutto in un luogo solo è più simile alle Iene dal punto di vista della messa in scena ma è un le Iene all'ennesima potenza con molta molta più esperienza accumulata sulle spalle del regista che ti racconta una storia che di base potrebbe essere banalissima ma che in realtà è una riflessione sull'animo umano sulla cattiveria di cui possono essere capaci le persone e su come spesso si creino alleanze inaspettate tra le persone e poi abbiamo secondo me un grande Walton Goggins che già avevamo visto in Django Unchained che moriva tra trocci sofferenze perché Django gli sparava negli Zebedei e francamente questo Tietful Eight è uno dei film che di Tarantino è il film che di Tarantino più mi piace proprio perché mi ha dato delle sensazioni clamorose io ancora oggi lo so a memoria e mi risuono ogni tanto in testa la musica che apre il film mi rivedo dei momenti insomma so che molti non saranno d'accordo ma è quello che più mi ha lasciato qualcosa tra tutti i film che ha diretto il regista è quello più magniloquente è quello in cui la poetica di Tarantino si esprime al massimo con questi continui colpi di scena di personaggi che capisci che non sono chi dicono di essere insomma stiamo parlando della maturità più totale di un regista che fino a quel momento già ci aveva regalato tanto non mi dilungo oltre perché ci feci già una recensione di un ora un quarto comunque ne ho parlato abbastanza perché se dovesse dilungarmi rifare la recensione e non ha senso ma volevo spiegare per l'appunto il perché sia quello che mi piace di più perché è il raggiungimento della piena maturità del regista e secondo me qui non stiamo parlando del qual è il tuo preferito Tarantino è anche il mio preferito ma credo sia anche il migliore cioè perché il preferito non è necessariamente il migliore però qui stiamo parlando dal peggiore al migliore per quanto mi riguarda ma credo sia abbastanza obiettivo basta guardare proprio anche la grammatica registica e della sceneggiatura è il migliore che Tarantino abbia fatto finora poi possono essercene altri che sono piaciuti di più e ci sta però da un punto di vista proprio del connubio tra narrazione e regia è senza dubbio quello in cui Tarantino ha dato il meglio e quindi è anche il mio preferito e così finisce la classifica dei film di Quentin Tarantino dal peggiore al migliore secondo me naturalmente vi chiedo di dimmi qual è la vostra persona classifica in un commento e vi chiedo anche di suggerirmi qualche classifica che vorreste vedere qui sul canale prossimamente sto già tenendo conto dei suggerimenti che mi avete scritto nei commenti alle classifiche precedenti quindi io vi abbraccio che sia tanto ma tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo Muiblog ciao a tutti